Ed eccolo Luca Mora dopo tante parole e tanti rinvii finalmente bianca azzurra insomma volevi Pescara, sei arrivato al Pescara e Pescara voleva Luca Mora Sì sono molto felice, sono appena arrivato, ho avuto subito una bellissima accoglienza e sono carico per questa nuova avventura Arrivi dalla Spal, arrivi dal campionato cadetto al Pescara in Serie C ma Pescara è una piazza importante che fino a qualche anno fa giocava in Serie B e anche in Serie A Sì sì assolutamente, poi non sono un giocatore che pensa a queste cose negli ultimi anni ho giocato in Serie B, prima avevo giocato anche in Serie C insomma l'importante è avere voglia di fare, di lavorare io ne ho tante quindi spero di riuscire a rendere al meglio e che la squadra raggiunga gli obiettivi stagionali migliori possibili Come è maturata questa trattativa? Mi ha chiamato il direttore dell'Icarri, mi ha un po' illustrato la sua idea per quest'anno insomma ci siamo trovati abbastanza subito d'accordo ovviamente c'è stato un attimo di trattativa ma insomma ero smagnoso di cominciare anche perché di stare a casa ad aspettare, ad allenarmi da solo insomma non ero molto predisposto e quindi appena è arrivata un'offerta importante da una società importante ho deciso di accettare subito Arrivi in una piazza calcisticamente calda con una tifoseria molto passionale molto vicina alla squadra ma in un ambiente che in un certo senso deve essere anche un po' ricostruito dopo le ultime stagioni piuttosto deludenti Sì so che negli ultimi anni insomma ci sono state delle stagioni un po' deludenti però sono cicli nel calcio e insomma speriamo di ripartire con tanto entusiasmo è chiaro che forse all'inizio la situazione non sarà delle più semplici perché c'è un po' di sconforto da parte dell'ambiente ma siamo carichi per cercare di riportare entusiasmo e dobbiamo essere noi a trascinare il pubblico e poi dopo saranno loro a trascinare noi oppure insieme L'obiettivo non può che essere quello di riprovare la scalata alla Serie B non sarà semplice Pescara però che ha questo come obiettivo come piazza Ma adesso l'obiettivo è conoscere un po' i ragazzi, fare gruppo visto che la squadra credo sia cambiata tanto dall'anno scorso quindi fare un bel ritiro, cominciare a conoscerci e poi dopo gli obiettivi si faranno strada facendo è chiaro che una città come Pescara merita altri palcoscenici quindi noi proveremo a fare il meglio possibile Ti trovi a Pescara nello staff del Pescara del Grosso che è stato tuo compagno di squadra nella spalla Sì, con Cristiano c'è un grandissimo rapporto quindi sono felice di essere venuto in una città dove lui abita e lavora avrà modo sicuramente di raccontarmi un po' come funziona e tutto il resto Luca chiudiamo questa intervista con un ricordo un ricordo non molto piacevole per i tifosi del Pescara un Pescara a spalle 0 a 1 del 2021 Luca Mora che si procurò il rigore che poi diede la vittoria alla spalla ci fu anche diciamo una diatriba tra te e Drudi Drudi fu espulso ricordiamo quell'episodio Sì, sì, lo ricordo bene ma sono cose di campo per me il rigore sinceramente c'era anche se so che qualcuno ha detto che mi sono buttato però ecco c'è stato un contatto col ginocchio di Scognamiglio poi è chiaro che ognuno vede le cose un po' poi dalla sua parte con Drudi ripeto sono cose di campo lui forse era un po' nervoso perché aveva fatto un fallo è venuto testa a testa io non ho fatto niente non mi sono neanche buttato a terra quindi insomma l'abito ha deciso di ammonire tutti e due penso lui era già ammonito e l'ha espulso però ecco ripeto sono cose di campo non ci vedo niente di male o di cui parlare ecco insomma solo un episodio di calcio